ciao voglio fare un breve video per una soluzione che ho trovato a una mancanza in clip studio paint in photoshop c'è quest'utile funzione che quando ho selezionato qualcosa posso premere ctrl alt trascinare e duplicare l'oggetto posso anche cambiare la selezione e continuare il trascinamento oppure se annullo la selezione e non ho nessuna selezione con ctrl alt duplico l'intero livello e vedete adesso ce ne due posso appiattire e questa è una funzione estremamente comoda la stessa cosa in clip studio paint invece non è così semplice cioè se io ho un disegno lo devo prima selezionare e poi devo o utilizzare gli strumenti qui per il copia e incolla quindi per esempio questo tasto e allora ora con il ctrl posso spostarlo però mi ritrovo una copia del livello per cui devo appiattire giù con ctrl e rifare spostare appiattire giù ed è piuttosto scomodo l'alternativa è usare il trasforma che si attiva in genere con ctrl t e c'è questa spunta keep original image che permette di spostare poi si conferma con invio bisogna di nuovo fare ctrl t spostare confermare con invio il fastidio è che però una volta spuntata questa opzione keep original image se la ricorda e quindi dopo quando vado a fare qualcos'altro accidenti devo tornare a tirarla via perché in questo caso non volevo fare una copia ma volevo solo trasformare questo allora prima di tutto lo strumento di trasformazione che appare con ctrl t e che trasforma è questo move layer e la prima cosa che ho fatto è stato creare un duplicato di move layer l'ho chiamato move copying che automaticamente la spunta su keep original image per farlo bisogna selezionare il tool originale questo move layer crearne un duplicato e quindi potrebbe essere move layer con copia se volete potete dargli anche altre icone eccetera ma non lo faccio su questa copia se voi premete il tastino solito per le opzioni del tool potete visualizzare anche qui questo keep original image e tenerlo spuntato per cui in pratica adesso se io seleziono e vado a mano non con ctrl t ma a mano vado a utilizzare questo tool move layer con copia quindi seleziono vado a prendere il tool move layer con copia e lo fa senza che diciamo abbia sporcato il move originale per cui se io seleziono vado qui e scelgo il move layer originale posso fare move senza la copia fatta questa prima cosa è possibile in clip studio associare qui alla voce modifier key settings cliccando general è possibile stabilire per la combinazione ctrl alt di cambiare tool temporaneamente e quindi nel mio caso prima c'era scritto none qui adesso ho fatto cambia tool temporaneamente quindi da none bisogna scegliere questo e si va a scegliere il tool che vogliamo che appaia quando premiamo ctrl alt e in questo caso appunto ho utilizzato la mia copia di move layer quella con la copia quindi posso anche utilizzare questa che ho fatto adesso assieme a voi faccio ok ok adesso tra l'altro questa magari la butto visto che è duplicato adesso in pratica quando ho per esempio lo strumento di selezione premendo ctrl alt momentaneamente viene attivato quello strumento e quindi posso avere lo stesso comportamento che c'è in photoshop molto più facilmente l'unico fastidio è che mentre in photoshop continuando premere ctrl alt posso continuare a fare altre copie qui invece non posso devo o cambiare leggermente la selezione e quindi in questo caso ho mollato il control e cambio leggermente la selezione ogni volta e quindi riesco a cambiare altrimenti l'altro metodo che ho trovato è nel modifier key se scelgo un'altra combinazione per il control shift quindi per esempio io per il control shift ho scelto di cambiare tool in un certo pennello che mi piace quindi in pratica cosa succede che quando ho qualsiasi strumento se premo control shift posso disegnare con questo strumento in realtà mi serve perché quando premo control alt posso fare una copia se lascio il tasto alt premo shift per un attimo poi posso con control alt tornare a fare la copia perché premere shift per un attimo mi fa sostituire lo strumento per un attimo con questo che disegnerebbe e quindi dopo il control alt continua a fare una nuova copia perché momentaneamente ha cambiato tool quindi è una specie di trucchetto appunto come vi dicevo poi eventualmente basta anche cambiare la selezione se come ho fatto io lo fate qui sotto general settings funzionerà questa cosa con qualsiasi strumento quindi anche con il lazo control alt e posso fare una copia e poi appunto tolgo un pezzettino control alt oppure il trucco che vi dicevo con lo shift per continuare a fare una copia perché appunto queste modifier key settings sono general cioè valgono per tutti gli strumenti se in qualche strumento non vi va di averlo potete andare nelle impostazioni di quel singolo strumento e quindi per esempio la penna o quella che è e dirgli che con control alt invece di common volete che faccia qualcosa di particolare solo quello strumento lì per esempio se io adesso attivo il pennino che uso di solito per disegnare se vado a vedere qui con control alt sotto tool specific questo pennino adesso ha change brush size e quindi il control alt serve a rendere il segno più o meno grosso e quindi questo diciamo va a sovrascrivere l'impostazione generale vedete voi cosa preferite se assegnare il comportamento del control alt su tutti gli strumenti di selezione quindi la selezione rettangolare quella circolare quella lazzo oppure fare come ho fatto io metterlo generale e poi andare a toglierlo su eventuali altri strumenti in cui non volete che lo faccia tra l'altro questo funziona anche come in photoshop se non ho nessuna selezione adesso cancello un po' di cose per pulizia se non avessi nessuna selezione control alt e trascino duplica l'intero livello e come vedete il comportamento è simile a quello di photoshop quindi questo piccolo video per dirvi qualcosa che sono finalmente riuscito a far fare a clip studio secondo me è una grossa mancanza perché è molto molto comodo control alt per duplicare in questo modo è un workaround abbastanza funzionante sempre meglio che non control t sposta invio riseleziona control t molto molto fastidioso grazie ciao